buongiorno a tutti amici da giuseppe oggi do l'acqua ramata alle viti fatti ho preparato e la sto preparando se la pompa e questa è l'acqua ramata non ammucinata si scioglie bene bene ci ho messo la poltia bordolese che bella è fatta basta ci hanno messo netto ogni 20 litri d'acqua 50 grammi ogni 10 litri ok e qui la devo dare solo alle pergolate qua intorno casa è anche troppa tutta questa infatti fra 15 giorni la ridò adesso ne do 10 litri gli altri 10 fra 15 giorni anche un po ai pomodori però non adesso che c'è il sole e bolle e scotta dopo pomeriggio quando arriva il sole ok ci sentiamo dopo ciao ciao